buongiorno eccoci qua con la diretta allora come ben sapete questo prodotto non esiste è stata una mia invenzione quindi tutte le macchine che vedete land rover di una certa data questo prodotto l'ho fatto creare io in origine nasce per un prodotto mercedes e quindi cosa facciamo abbiamo lasciato tutto il sistema originale perché praticamente a varie impostazioni vettura in più tramite auxin abbiamo installato questo prodotto allora ci sono alcune cose che sono solo grafiche non potranno mai funzionare perché ad esempio la dashboard non può funzionare perché non esiste un canvas però diciamo che sempre una cosa scenografica eccola qui ovviamente la dashboard non funziona come detto è una cosa grafica mentre per il resto andiamo avanti abbassiamo un pochino il volume via voce bluetooth streaming musicale insomma il cliente era molto contento di che siamo riusciti a fare questa elaborazione perché perché avere una macchina del genere fare viaggi e non avere un navigatore all'altezza è molto penalizzante in più nel momento in cui porti i bambini o fare un viaggio lungo puoi mettere cartone animati usare youtube insomma è una bella svolta partiamo subito con gestione video e audio che abbiamo messo usb nel cassettino basta premere l'app video partiamo subito con un video questo è un video campione cinese andiamo a selezionare la usb che abbiamo inserito noi mettiamo tutti i video partiamo da uno insomma possiamo usare tutta la nostra libreria qui abbiamo le playlist ok andiamo avanti abbiamo gestito video adesso andiamo su musica così abbiamo spento riaccendiamo quindi da zero ad avere tutto è un bel passo in avanti ovviamente basta dare username e password e accediamo a spotify stessa cosa per sky go vai alle impostazioni username e password potete vedere sky go ovviamente tutto il play store non c'è nessun problema come vedete cuoricino su audio edit è d'obbligo anche se sono di parte andiamo a inserire l'edrocamera ovviamente telecamera sistema originale e guardate che insomma siamo con la nebbia questa è retrocamera originale perfetto grazie e buona giornata